ciao a tutte ciao a tutti benvenuti a una nuova puntata di tintoria con me questa puntata c'è stefano rapone ciao che non è non è ospite e non è co conduttore sa soltanto quello che non è sei il balto di tintoria e non so non so che che titolo darti perché insomma per chi si fosse sintonizzato per la prima volta a tintoria stefano molte delle ultime puntate ha assunto il ruolo di co conduttore e non è mai venuto ospite in tintoria quindi adesso in teoria è il suo turno di essere ospite di questo podcast però avendo tu già fatto il co conduttore non me la sento di definirti ora guest quindi come ti definiresti non lo so un ragazzo semplice sì un ragazzo umile sono sono qua non ho idea di quale sia il mio ruolo appunto come balto che io non ho mai visto non hai mai visto ho visto solamente la pubblicità ogni volta in cui diceva quella frase non è cane non è lupo esatto io so soltanto io so quella frase e per qualche ragione la sanno tutti sì che forse per questa ragione perché andava in pubblicità però non ho mai visto il non so di che parli penso di un cane lupo sì esatto cane lupo sulla neve che non non viene accettato dai cani da slitta perché lui è mezzo lupo e i cani da slitta servono anche a difendere gli umani dai lupi e poi alla fine c'è tutta un'impresa eroica per cui lui viene accettato invece dai cani da slitta poi c'è un cane da slitta particolarmente cattivo c'è una cagnolina da slitta o cana da slitta ma molto carina c'è un'oca è infatti quello che diceva questa frase era un'oca e dico perché c'è un'oca nella neve è perché come come il gatto che insegna a volare alla gabbianella così è un'oca che insegna a stare al mondo a un cane lupo perché un'oca che cos'è non è una papera non è un cigno è un'oca e questo l'ho appena deciso io quindi chiedo scusa agli sceneggiatori di balto e alla leggenda di balto che credo c'è addirittura sì sì penso sia una storia non ti dico realmente accaduta però che balto sia uno di quei animali storici tipo acico o il cane di frai mi piace pensare appunto che sia una storia autobiografica raccontata da un vecchio balto e che poi si è stata tramandata di oca in oca di oca in oca perché balto è il re il re delle oche che poi di oca in oca sembra quasi sembra quasi che si vada verso una una bestemmia veneta invece invece no è una tradizione di volatili che parlano di cani lupo stiamo parlando solamente di ovipari esatto di divinità ovipari allora sì 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 perché le oche sono ovipari quindi quindi di ovipari e per di più paperi per citare una persona che è qui dietro che è che è filippo spreafico che salutiamo che è stato già ospite di tintoria quindi tutti tutti gli ascoltatori e ascoltarici sanno già tutto quello che c'è da sapere su filippo oggi nel ruolo di me oggi nel ruolo di stefano rapone star in gas stefano rapone filippo spreafico è una battuta in cui come come era la battuta precisamente quella che finiva con e per di più paperi gli italiani credono che uno su tre persone in italia siano immigrati che è una cosa stranissima perché come credere che uno di cui qua è un immigrato è impossibile dato che sono personaggi fittizi e per di più giusto spero spero si sia sentita no però la mettiamo con l'audio della telecamera forse la mettiamo con l'audio della telecamera qualcosa sarà arrivato e quindi questa battuta mi piace molto questo finale che adesso non puoi mai più fare in italia perché tutto il tuo audience sentirà questa puntata ma questa l'avevi già detta a tintoria che arriva dove dove la stand up comedy non può e comunque sia è un periodo strano ci stiamo abbiamo ricominciato a esibirci abbiamo ricominciato tutta roba fresca recentemente tutta roba fresca per chi non lo sapesse è la serata in cui io luca ravenna stefano rapone proviamo pezzi nuovi a roma l'abbiamo sempre fatta in realtà negli ultimi anni l'abbiamo fatta al piero le fu che però con le norme covid era semplicemente troppo piccolo adesso ce ne siamo spostati a snodo a via del mandrione la prossima serata sarà il 2 di novembre accorrete numerosi e numerose vi teniamo a distanza di sicurezza se se il covid ce lo permette perché poi la cosa più importante è stare in sicurezza tutti quanti oltre che divertirsi insieme esatto e allora questa puntata col fatto che ci sei tu che non sei proprio un ospite che sei il balto dei partecipanti vorrei che fosse un po più libera non ho non ho preparato la rigida struttura di tintoria che invece di solito si accompagna alle alle puntate quindi vorrei un po parlare più che di comicità in generale delle cose che ti piacciono perché abbiamo dei gusti delle cose che ci piacciono in comune e principalmente dragon ball sì principalmente è questo dragon ball è principalmente il nostro perché poi sai videogiochi alla fine in realtà videogiochi li ho bazzicati sempre poco marginalmente faccio al massimo delle delle immersioni perché a te impedivano di giocare a me impedivano di giocare videogiochi a casa mia i miei genitori che erano di sinistra non ci facevano giocare videogiochi per la precisione la tornazione dei videogiochi a casa mia per me mio fratello noi potevamo giocare al super nintendo quindi fino a quel periodo storico lì quando eravamo proprio bambini noi potevamo giocare al super nintendo ogni primo giorno del mese per un'ora ammazza solo solo un'ora mezz'ora a testa mezz'ora al mese mezz'ora a testa al mese ogni primo giorno del mese era il giorno in cui potevamo giocare al super nintendo cosa è terribile fine c'erano delle clausole tipo invia una volta che è arrivato il game boy in viaggio si poteva giocare a game boy perché comunque sia l'esigenza di pokemon rosso per potermi io confrontare con i compagni della mia età era era molto forte quindi per non rendermi un paria mi hanno dovuto concedere pokemon rosso quindi il game boy insomma era un po' un cavillo che si poteva di sinistra magari mio fratello però aveva pokemon blu infatti tuo fratello un po' mio fratello è di destra incredibile guarda mi sono sempre chiesto qual è la grande differenza tra me e mio fratello che a me hanno dato pokemon rosso e mio fratello pokemon blu poi che c'era di differenza tra i due che c'era solamente un pokemon diverso tipo leggenda no no allora in uno c'era articuno no 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 perché no aspetta gli uccelli erano in tutti e tre però era tipo che in pokemon rosso è più probabile che trovi nidoran femmina che tipo è molto importante per gli speedrunner è una cosa che poi gli speedrunner hanno molto perché tipo una delle tattiche per finire in speedrun è trovare un nidoran maschio non femmina perché c'ha le statistiche buggate quindi c'è un attacco molto forte quindi te devi sperare di trovare un nidoran maschio subito e poi ti tieni solo lui che one shot a tutti quanti e poi per il resto sicuramente c'erano una serie di differenze che però adesso non ti saprei non ti saprei dire ma invece io avevo i genitori di centrodestra e quindi giocavo tutti i giorni però un'ora e mezza però tutti i giorni la guarda avrei avrei fatto qualsiasi cosa per essere come te poi le regole dei videogiochi a casa mia sono cambiate adesso mio fratello programma videogiochi e forse non programma più videogiochi programma e basta però insomma ha studiato per programmare videogiochi ha programmato videogiochi per lavoro è un grande appassionato senti e tu che console avevi io avevo ho cominciato col super nintendo sì e mi hanno regalato io ho detto io voglio un computer e ti hanno regalato il super nintendo da paura comunque io stavo benissimo ero contentissimo con super mario world sì uno dei più bei giochi della storia e mi hanno regalato anche fifa no fifa 94 world world cup 94 perché non c'era ancora fifa quindi era un altro gioco con la visuale dall'alto sì 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 se tu ti mettevi al lato dell'aria e tiravi segnavi sempre e c'era tutti nomi falsi tipo mi ricordo nell'italia c'era luciano salce che era un bellissimo no salice anzi perché sennò salce era il regista quindi c'era i nomi cambiati però tipo di registi non di calciatori ok e io però ovviamente giocavo sulla super mario world perché il calcio non mi appassionava sì e ero in terza elementare e quindi ho anche smesso di fare scuola calcio e sono diventato grasso incredibile questo ecco però vedi allora che i videogiochi effettivamente però possono fare male però felice perché prima non ero cioè giocavo a calcio non eri soddisfatto non ero forte ero era una pippa a giocare a calcio e quindi non mi divertivo invece lì a giocare poi c'era comunque io vedevo mario che era un idraulico grassottello e quindi un po' mi identificavo ti identificavo in super mario e quindi il tuo sogno era fare l'idraulico sì esatto io anzi io volevo diventare come wario ma anche fisicamente cioè grosso sì mi piaceva proprio anche come era di faccia con il naso rosso i baffi a zig zag wario è un bel personaggio wario bellissimo perché è come mario però un anti eroe quindi lo fa per i soldi e quindi un po' è più facile riconoscerci che invece mario che lo fa per la pussy ma io poi ero piccolo appunto non è che avevo l'ambizione di salvare una principessa però i soldi i soldi li capivi senti allora facciamo tutta questa questa panoramica super nintendo poi nintendo 64 playstation 1 super nintendo poi e beh game boy game boy poi game boy color attenzione aspetta e si game boy era quello tu prima il game boy mattone il game boy normale no non color cioè no il l'adattatura per il super nintendo come si chiama il super game boy ah no ok quello c'è perché potevi giocare giocare game boy mettevi sì mettevi una tipo una cassetta del super nintendo una cartuccia c'è una zanzara il 22 ottobre ragazzi questo è sprea figo che visto che mi ha fischiato tutto no 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 sì sì mi sono girato comunque mi sono sentito sentito no era no game boy super game boy che era appunto potevi mettere i giochi del game boy al super nintendo quindi li devi a colori quindi certo quindi prima che uscisse il game boy color e potevi anche scegliere due colori era bellissimo incredibile che libertà e poi tipo alcuni avevano anche la una cornice perché comunque era la risoluzione dei game boy sì non era tutto a tutto schermo e c'erano delle cornici così generiche invece alcuni tipo bomber man aveva una cosa dedicata quindi era molto bello poi playstation poi playstation pure io playstation e non nintendo 64 nintendo 64 c'era mio cugino io andavo da lui a giocare a mario 64 certo e a zello carino of time no quello ci ho giocato sull'emulatore da grande ok e poi di playstation e poi hai fatto tutto il percorso sony sì ho avuto la 1 e quella che ho giocato di più la 2 un po poco perché ero già un po grande poi quella che avevo che avevo l'avevo fatta modificare certo perché all'epoca giovani si modificavano le console sì per giocare ai giochi comprati quelli che una volta chiamavamo i marocchini oggi non si può più dire oggi non si può più dire anche perché comunque già all'epoca non erano marocchini erano penso senegalesi però noi li chiamavamo marocchini dove oggi andiamo a registrare le nostre puntate i nostri spettacoli via di burtina dove c'è la sede là degli studios lì davanti era pieno di questi famigerati marocchini con dei tappeti con dei videogiochi e tu andavi lì davi 10 mila lire 10 mila lire e ti compravi i giochi spesse volte non funzionavano a volte erano dischi di musica a volte non funzionava li riportavi e loro te li cambiavano tranquillamente ah vedi cioè non c'era problema e l'avevo fatta modificare però quella playstation 2 dopo un po' si era non funzionava bene più con i giochi modificati quindi comunque era un po' una sola e quindi ho giocato al computer perché comunque giochi la play 2 cominciavano già a costare una svaria di soldi e poi al pc erano pure belli cioè giocavo principalmente al pc fino a qualche anno fa poi playstation 4 ok e pc che cosa che percorso hai fatto di giochi per pc pc vabbè io comincio il mio primo gioco questa è una cosa forse non ho mai detto a nessuno un'esclusiva di tintoria questo gioco bellissimo che si chiama the never hood non conosco infatti non lo conosce nessuno è bellissimo perché tutto fatto in stop motion in plastilina quindi è tutto un mondo assurdo cioè era non c'era una parola cioè non cominciava e tu non sapevi che dovevi fare c'era un gioco un'avventura grafica tipo monkey island per dire però non è che c'era una storia tu ti svegliavi in questo mondo era un personaggio strano che non parla mai e andava in giro dovevi risolvere degli enigmi che erano comunque anche difficili infatti il gioco era consigliato da 17 anni in su in mv 10 e però però ce l'hai fatta no cioè fino a un certo punto ce la facevo poi dopo un po ho scoperto internet perché non c'era internet pensate quanto sono mamma mia ragazzi e ragazze un mondo senza perché pensate che rapone degli anni 70 esatto io sono rapone aveva dieci anni nel 72 e quindi non c'era internet e quindi dopo un po' negli internet caffè andavo per per scoprire le soluzioni e quindi si fa così e quindi qualcosa mi sono fatto aiutare però comunque ero ero piccolo ci sta parlando tutto in inglese c'è un certo punto c'erano delle cose questa cosa interessante per esempio erano delle tutte delle cassette per per strada nel gioco e le mettevi in una televisione e quindi parteva tipo un cartone animato con questo personaggio che era un altro personaggio che si chiamava willy trombone che raccontava la storia però erano tutte cassette non in fila cioè erano parti di cassette potuto ricostruire tutto quanto e questo parlava in inglese senza sottotitoli perché all'epoca non c'erano neanche i sottotitoli io quindi sentivo queste parole che non capivo e però lo facevo a ripetizione perché ero un bambino e quindi facevo sempre le stesse cose e tipo a distanza di anni ora che so l'inglese ogni tanto mi mi ritorno queste parole e le decifro cioè trovo e capisco il senso perché ho questi suoni a memoria e a sorpresa è tipo israele non è uno stato legittimo e quindi neverhood era in realtà una cosa di propaganda antisionista esatto però è così cioè è assurdo no che parole erano adesso un saluto agli ascoltatori una storia di questo di questo mondo che era stato c'era praticamente questo re che si chiamava hoborg sì che era una sorta di dio perché poi il tra l'altro questa cosa forse potrebbe essere in linea con quello che hai detto perché questo il creatore di questo videogioco è un repubblicano di destra insomma americana quindi fa tutte cose si mette sempre un po le cose cristiane all'interno ok ok quindi è stata una specie di dio che aveva creato questo mondo poi era solo e quindi aveva creato un amico però questo amico gli ha voluto rubare la corona perché non per l'ambizione così quindi è diventato un mostro però è diventato il re di questo mondo e il questo hoborg era diventato senza corona era entrato in un sonno infinito finché non arrivi lei gli rimetti la corona vedi una cosa incredibile di giocare ai videogiochi da bambini è che effettivamente se tu non sai la lingua comunque sia anche solo provando e sbagliando ti incaponivi a fare delle cose finché non le risolvevi anche non capendo niente non capendo le indicazioni tipo nei giochi dove ci si ritrovava a dover rispondere a delle domande uno non capiva la domanda non capiva la risposta però si memorizzava il pattern la prima è b la seconda è c la terza è f e andavi avanti così e un'altra cosa mi sorprende dei videogiochi da bambini è che su questo gioco no perché ci hai giocato solo tu però tutti sapevamo tutto cioè tipo io pokemon e io che io abbia memoria a pokemon rosso nessuno mi ha mai insegnato a giocare a pokemon rosso però tutti quanti sapevamo tutto tutti quanti sapevamo ok devi prendere il flauto qua per far svegliare snorlax poi va alla torre lotta e là ci sta e non c'era internet non c'era niente però tutti quanti sapevamo tutto tutti quanti sapevamo come clonare i pokemon prima col cavetto poi col modo che devi spegnere al momento giusto quando andavi al centro pokemon non c'era qualcuno l'ha detto qualcuno l'ha detto però come clonare i pokemon sì però come si gioca a videogiochi io non ho memoria di persone che te lo insegnano o di te che lo impari a fare però mentre adesso ho molta meno pazienza cioè adesso mi aspetto di saperci già giocare tipo ora sto giocando a final fantasy 7 ci sono i momenti in cui nessuno mi dice devi andare qua e quindi io sto là che vago e dico dove cazzo devo andare vado su internet dove devo andare e ci vado perché non ho più la pazienza di vagare perdermi infatti non so se adesso anche i videogiochi forse sono meno così ma inesplorativi meno vaghi ti danno più posti dove andare o forse sono solo io che sono un trentenne calvo già che c'hai il tutorial per esempio adesso cioè in tutti i giochi c'è un tutorial all'epoca non c'era cioè adesso anche anche i giochi di lotta soprattutto per dire di cui sono un fan là ti mettono subito fanno vedere come si fanno le mosse eccetera invece tu giocavi la street fighter lo accendevi e dovevi cominciare a picchiare la gente capito quindi adesso è molto più step by step anche se ci sono alcuni giochi che invece riprendono la cosa del passato e quindi fanno fanno partire subito il gioco senza dirti niente e tu giochi e tu giochi tipo eh tipo abbiamo anche giocato insieme a quello da da contessa come si chiama inside ah inside ricordi che la parte tu non sai niente ogni volta che mi fischia perché ti giri per quello eh sì perché metto la cuffia vicino al microfono ma tu hai bisogno della cuffia veramente per fare questo problema no è solo per sentire come si sente così posso alzare abbassare no non ne ho bisogno quello in cui muori in cui muori in in che senso in cui muori muori ho sentito di questo gioco in cui quando perdi muori e vedi la morte e vedi come muori e poi rinasci e vedere questa cosa è così traumatizzante che fai di tutto per non morire in questo gioco non mi ricordo se è questo probabilmente non sto parlando di un videogioco ma di un film non so non so assolutamente di cosa stai parlando forse è un sogno che hai fatto adesso e questo era Filippo Sperafico no è interessante no esiste sicuramente ricerchiamola perché è figa come qualcuno di che ascoltate in teoria sa di questa cosa lo lasci nei commenti sì se capite se sapete di che videogioco sta parlando Filippo Sperafico scrivetelo nei commenti e noi poi faremo questa ricerca insieme è vero ci stanno le videogiochi che non ti che non ti spiegano che non ti spiegano niente e senti tu tra l'altro sui giochi di lotta sei scuola street fighter non scuola tekken vero sì sì assolutamente tekken cioè ci ho giocato però è proprio i pochi movimenti non a me per esempio è sempre piaciuto più tekken perché tu sei più giovane e può darsi quando usciva la playstation usciva con tekken con tekken 3 dentro demo one che era il disco di demo che usciva con la playstation c'era cool award dove era una palla e tekken 3 dove poteva usare solo lei e xiao yu e quindi sì ci si appassionava tekken 3 e almeno quando io ho comprato la playstation c'era questa questa cosa in demo one e tekken 3 è forse il primo grande adesso ci sono tutte persone dicono no tekken tekken 2 però forse tekken 3 è proprio il primo grande tekken sì io pure ho giocato al 2 il 1 poco al 2 ci ho giocato abbastanza il 3 però mi piaceva di più il terzo e poi c'erano anche i personaggi più buffi c'era gon c'era gon che è un personaggio di un manga molto bello anche lì senza parole tu vedi quello disegni bellissimi di masashi tanaka se non sbaglio che salutiamo ascoltatore di tintoria che adesso è uscito in una versione anche rilegata figa io ho tipo quelle vecchie che si strappano le pagine appena pure io io c'ho un vecchio da adesso chissà che fine ha fatto però aveva l'aquila un vecchio gon di lui che va nelle visce della terra per salvare non so chi c'è un ragno gigante stupendo e però si staccavano tutte le pagine sì ora è uscito tipo un cofanetto da tre volumi grossi e infatti volevo prendermi ma vedi tutti da forbidden planet che salutiamo no invece street fighter per me è più cioè più figa proprio io non so perché poi la gente io da micro giocavo tantissimo tipo street fighter o mortal kombat pure e poi da un po più grande c'era king of fighters che non so se no non ce l'ho presente che era la casa rivale della capcom che era la snk sì che era tipo quelli cioè tipo ha fatto fatal fury vabbè non so se sei pratico no questi non li conosco per un periodo era meglio quello di street fighter adesso invece è come pass e fifa se per un periodo era meglio pass e poi adesso sì adesso è tornato fifa si dice anche se passa quest'anno is making a run sì così pare e hai ancora qualcuno con cui giocare a questi giochi di lotta perché io da piccolo giocavo col mio amico liang che era un amico cinese ah che veniva ogni giorno a casa mia che ne è stato di liang e poi siamo persi di vista liang se ci ascolti stefano non ha più con chi con chi giocare a street fighter i giochi di lotta quindi adesso io non c'è nessuno in italia poi ci gioca pochissima gente ai giochi di botte sì è vero perché sono difficili cioè comunque devi studiare per gli ure ci gioco ma cioè devi metterti in line a imparare ogni singola cosa di ogni singolo personaggio è come lo sport vero sì esatto come lo sport vero solo che non ti fa bene al corpo fa bene alla mente alla mente però ci sta un sacco di gente che ci campa di questo no no voglia voglia è vero che sono difficili perché ogni personaggio c'è tutto un set di mosse che tasti che devi premere nella giusta sequenza col giusto ritmo al momento giusto poi di combo che devi fare perché devi combinare tutti i tasti e poi devi essere veloce con i riflessi perché quindi se tu invecchi comunque il più giovane è più più forte questo è strano degli games che uno pensa le puoi fare anche da vecchio però in realtà i giochi sono forti questa è una mara verità e adesso per tornare alla cosa iniziale ora sto giocando a dragon ball fighters sì che è un gioco di botte di dragon ball bellissimo che parla di dragon ball o i giochi di dragon ball io ho smesso di giocarci quando ancora si combatteva diciamo in due dimensioni cioè personaggio a destra personaggio a sinistra e ci si menava già dal primo dove era open world e ci si picchiava open world già non ci sicuro io in realtà quelli là erano troppo confusionari mi appassionavano questo qui è 2d pure fatto benissimo perché tutto c'è ogni singolo pugno è un riferimento diretto al manga quindi è proprio fatto con molta cura ok con molto amore quindi apprezzo molto questa cosa è molto fedele a sì sì cioè è un bel gioco di lotta di per sé anche se non conosci dragon ball è figo e in più c'è questa cosa che tutte le cose sono cioè non sono a caso sono tutti riferimenti precisi tant'è fanno anche i video in cui fanno vedere il paragone tra il manga e il è basato su dragon ball o anche super anche super ok ma super che è finito è finito l'anime perché il manga manga continua ok sì però ancora indietro c'è ancora il manga non è arrivato a dove è arrivato l'anime no no superato è in italia no sì sicuro in italia ah sì siamo già oltre sì sì ah ok ora c'è la saga di moro eh sì quella non c'è nell'anime no ah vedi ah ok tutta nuova quella e poi lo faranno l'anime che seguirà non si sa non si sa non si sa una bella domanda questa speriamo tutti lo vogliono tutti c'è quelli che seguo io tu vista i bambini di dieci anni i bambini di dieci anni giapponesi non parlano d'altro esatto e senti questo è molto bello che nella tua bolla e nella tua nella tua bolla quando eri piccolo che non si chiamava ancora bolla c'erano altre persone a passione di dragon ball ah io quando ero piccolo eh no nel senso io quando cominciavo a leggere lo stavo all'elementari sì e non c'erano altri bambini che no c'era qualcuno ricordiamo sta parlando degli anni cinquanta gli anni cinquanta esatto c'era fonsi e goku e no io ce lo compravo però non non ce ne erano tanti e hanno cominciato a esserci quando stavo al liceo mi sa e quindi lì perché c'era il cartone animato vedi che erano infatti le mie elementari vabbè forse sto esagerando però più o meno forse era l'aspetta io guarda dragon ball è entrato di prepotenza nella mia vita quando avevo otto nove anni direi e è quando ha cominciato appunto il cartone che si guardava religiosamente che poi io non potevo guardare perché andavo a scuola però mi ricordo che alla scuola elementare santa barbara pausa pranzo alla ricreazione dopo pranzo noi ci mettevamo sporti dal cortile e nella casa davanti qualcuno guardava dragon ball e noi tipo c'erano venti bambini allineati per guardare delle immagini in una televisione molto lontana senza sentire neanche bellissimo poi dopo un po' tornò a giocare a calcio perché era più frustrante che altro e cosa senti già so la risposta però per completezza come tipo nei confronti dragon ball gt beh come diciamo ride perché interessante perché lui magari è il punto di vista di una persona che è normale diciamo sì in questo caso no in realtà lo guardavo anch'io ah ok però appunto il fatto che c'è c'è capisco la domanda ok capisco la domanda e allora sentiamo la risposta ti dico questa cosa è come se uno è cristiano no fai conto quindi dragon ball z è come il cristianesimo sì cioè la seconda cioè la Gesù praticamente il vecchio dragon ball è come l'antico testamento e dragon ball gt è come per un cristiano l'islam ok una cosa che va bene non è vera ok e però allora dragon ball super dragon ball super è la seconda venuta quindi io in questo momento sono un mormone ok da questo punto di vista però è a me piace bene secondo me più si va avanti io sono contro quelli che dicono ah no era meglio prima no adesso ha espanso quello che era il un po nel bene un po nel male però principalmente nel bene diciamo quella che era la la filosofia del vecchio dragon ball ha approfondito alcuni aspetti per cui secondo me è positivo che c'è bello dragon ball super è meno sozzo di dragon ball sì vero perché dragon ball era sozzo cioè c'era proprio dei momenti sia il manga che l'anime c'era proprio dei momenti cioè sozzi vabbè di nudità femminile ma infatti di seni di mutandine di maniaci diciamo dragon ball nasce in giappone negli anni ottanta quindi comunque c'era una mentalità negli anni ottanta e poi in giappone appunto la figura del tipo del maniaco anziano era un personaggio era come totò cinella diciamo da noi capito quindi è come puliscenella per cui sì c'era questa scena di questo maestro anziano che chiedeva a una adolescente di 16 anni di mostrare le mutandine o di fare paff paff tra i suoi seni una cosa che oggi è mi tu sì sì adesso il maestro mutan non saprebbe sopravvissuto maestro mutan no purtroppo infatti io sono contento che ora lo stiamo parlando noi e forse è un autogol da parte nostra però nessuno ha ancora messo in mezzo il maestro mutan maestro mutan che purtroppo ha fatto delle delle cose diciamo ha fatto anche cose sbagliate cose sbagliate però he rapes but he saves sì come direbbe Dave Chappelle però ha anche fatto un sacco di cose buone tra cui salvare contribuire a salvare l'universo in questa ultima sia un po redento da questo punto di vista sì 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 assumeva però domestiche che che voleva che lavorassero quello sì erano altre erano altri tempi diciamo che però c'è sempre questa gag in cui il maniaco ci prova però finisce fallisce sempre quindi comunque sempre questa cioè c'è non dico che ci sia c'è un ribaltamento comunque diciamo cioè non è che la donna è molestata comunque messa però cioè dal punto di vista come dire cioè non viene fisicamente molestata viene messa a disagio ma era greve però è sempre questo che non sto giustificando lo dico per c'è avuto quattro donne l'altra volta quindi non voglio trovarmi in questa situazione però c'è questa è un po la gag dal punto di vista e al maniaco la cosa che gli succede che lo contraddistingue che gli esce il sangue dal naso quando vede le nudità femminili da cosa viene questa cosa cioè perché ma è solo in dragon ball anche in giappone in generale quando c'è l'eccitazione sessuale si esce il sangue dal naso e questo perché i giapponesi sono talmente gli sfigati che se vedono delle tette gli si spaccano i capillari sì perché boh sì appunto saluta tutti i giapponesi che non sono gli sfigati però da cosa da cosa viene questa cosa penso che il sangue circola più velocemente quindi o mostri un'erezione oppure che si spaccano i capillari esatto pensate loro somatizzano magari quindi certo certo mentre invece ti ricordi city hunter non sono mai visto lì c'era proprio la questa erezione vistosa che l'ho visto però non mi ricordo io ho visto nel film che hanno che è uscito l'anno scorso fin tipo per i vent'anni adesso non mi ricordo e c'era sempre anche lì c'era questa questi pantaloni rigonfi vabbè che comunque non c'è niente di male le erezioni sono naturali sì è super è un po meno cioè forse è più per bambini a un certo punto di vista cioè perché è più pensato come per non per bambini nel senso che le storie sono in linea con quello che c'era prima però magari questi aspetti sono un po più edulcorati anche il sangue si vede poco ok vedi mentre invece in dragon ball era un bel massacro e senti altri altri manga li hai mai bazzicati sì sì io ho letto un sacco c'è adesso un po meno in questi ultimi ora sto vedendo giojo ah io giojo è uno di quelli che mi sono sempre perso perché poi io non sono mai stato un grande fan degli anime c'è nel senso al di là di quelli che vedevi che vedevo da bambino poi mi sono sempre letto i manga e giojo mi scoraggiava sempre comprati e giojo mi scoraggia perché già c'era più di cento numeri quando io ero piccolo e quindi insomma iniziare una cosa che già aveva più di cento numeri mi sembrava pure per le mie finanze da adolescente infattibile e quindi non l'ho mai non l'ho mai letto ma io vorrei leggere perché sembra figo io me lo sto vedendo su netflix pur là un po censurato purtroppo io comunque sono vecchio però censurano alcune cose è molto figo no poi ho letto io ho cominciato con rama certo ah il com'è il manga di rama più bello del cartone non so perché pure là cambiavano tutto ma proprio in giappone cambiavano la storia però comunque sia rama se ci pensa è veramente una cosa incredibile un ragazzo diventa ragazza è una storia pazzesca ma infatti è stranissimo perché comunque io non ci pensa però quella era un adolescente che comunque c'è un po di confusione sessuale secondo me tantissima ma e c'erano persone che si innamoravano di lei e odiavano lui e lui che si innamorava di lei stupendo era veramente una anni luce avanti e veniva accettato con serenità da tutti cioè nel senso anche le persone che magari adesso sono contrarie a questa rappresentazione confusa della sessualità del genere dell'identità sessuale rama non era un problema cioè rama noi ce lo vedevamo da bambini e non è che mia nonna mi dicesse qualcosa non è il caso di mia nonna però insomma anche per la cultura cattolica tradizionale italiana rama è un cartone animato non mi ricordo polemiche sul fatto che questo era un ragazzo che cambiasse sesso se adesso uscisse un cartone problema del genere probabilmente solleverebbe molte più polemiche avrebbe anche dei significati magari più profondi forse non lo so lì invece era normale questo diventa donna poi si vestiva anche ogni tanto la donna come se fosse normale invece siamo qui nel senso cioè comunque come se per lui vestissi la donna cioè per un uomo accettare già di essere una donna e poi anche vestirsi la donna che comunque negli anni 90 non era normale manco per il cazzo era un po strano e poi c'era chi diventava un maialino invece comunque un sacco di cose assurde e il manga è molto più bello ok dell'anime poi di lei che poi è ma si parla solo di difumenti va bene cioè dobbiamo parlare poi forse di comicità ne parliamo sempre con tutti i comici infatti basta comicità parliamo di quello che ci pare no era figlissimo perché poi io ho letto poi oltre alma sempre di lei che è rumico takahashi salutiamo salutiamo che ci vede anche lei scopata nel 2012 vabbè era una bella donna è una bella donna ancora ancora viva sì 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 ci sentiamo spesso e ho letto c'era mesoni koku che sarebbe cara dolce kyoko ah ok pure quello strano come cosa comunque non lo conosco era una storia di d'amore ma che era uno scioco scioggio scioggio si dice sì ok chiedo scusa era una tipo una storia d'amore tra questa cioè tipo lei più grande e lui più giovane ma tipo lei c'era 22 anni lui c'era 20 per dire però per il giappone era una vedova ok di 22 anni capito quindi e che era dall'amministratrice di questo di questa casa questo palazzo non so una casa due piani era praticamente e c'era lui che era un ti direi un ripetente però in realtà è uno che ha fallito il l'esame di ammissione all'università e quindi era un paria era un ronin ah sì che è come si chiamano i samurai senza padrone quindi c'è questa cosa con l'università uno che non ha un'università di riferimento però questa è molto c'è ti dà l'idea insomma e quindi lui era uno che appunto falliva all'entrata in questa università proprio la entrarci a tutti i costi e si innamorava di lei che era appunto questa vedova che prova questo uomo appunto ideale che era morto quindi non riusciva a lasciarsi andare e poi c'erano tutti quanti vicini di stanza sua che erano altri personaggi c'era chi era ubriacona chi era uno che non si sa che il lavoro facesse ma si faceva sempre i fatti altrui una signora con la famiglia e quindi tutto era una sitcom a fumetti sì però non è che succedevano delle cose era una vita quotidiana di questi sì c'erano delle cose tra di loro però non è che c'era l'azione le robe vedi perché tu hai hai letto fumetti che io considererei però per la mia cultura di ragazzo anche di provincia un po di nicchia mentre io ho letto solo c'è tipo grandi classici cioè berserk one piece naruto dai dai ce le presenti dai sempre sempre disegni di dragon balliani sì era che era tipo dragon quest era dragon quest i disegni erano sempre di toriano del disegnatore di dragon ball però credo che non era lui non so se c'era era connesso perché comunque dragon quest il character design del videogioco lo fa ancora adesso toriano allora era quello cioè ci stanno proprio dei personaggi che c'è una sovrapposizione sì però nel non penso che il fumetto fosse quello lì che fosse avesse a che fare con toriano non lo so mi ricordo che c'era qualcosa però tipo se giochi a dragon quest io giocai a dragon quest i personaggi i cattivi sono gli stessi di dai cioè sono proprio no perché i personaggi sono del gioco mi sa perché dragon quest è vecchio non lo so non questo è vecchissimo e dai che per chi non lo sapesse hanno provato a fare l'anime si chiamava i cavalieri del drago molto sfortunato credo abbiano fatto tipo 30 puntate su italia 1 e poi cancellato però dai mi piaceva ancora tantissimo però ecco principalmente shonen e gli unici shoujo impara adesso che si dice che ho letto erano videogorlai e love forse si chiamava un altro bellissimi tra l'altro gli shoujo fanno fanno sognare l'amore eppure gli shoujo erano belli zuzzi cioè nel senso comunque sia erano romantici per adolescenti però anche con scene erotiche appunto giapponesi che quando sei adolescente ti fanno battere il cuore e gonfiare il pantalone è vero non di sesso no non di sesso però sempre sempre intorno al sesso poi sempre magari il sesso non si fa mai o c'è il senso non si vede mai si magari un seno che spuntava oppure un vestito lieve su un corpo di donna non erano i giapponesi ah quanto so bravi noi ancora stiamo con milo manara grande fan anche di milo manara che salutiamo assiduo ascoltatore grande milo grande milo potrebbe fare una una cosa erotica di una una bella guarda mi piacerebbe tantissimo un disegno di una donna di milo manara davanti al logo di tintoria mi renderebbe felicissimo forse niente mi renderebbe più felice di questo va bene senti e parlando di cose che ci interessano abbiamo fatto 40 minuti di podcast mamma mia come vuole il tempo quando ci si diverte e io adesso passerei già alle domande di instagram perché abbiamo chiesto domande a al pubblico e ce ne sono tantissime questa volta visto che eravamo io e te ho chiesto domande per noi invece che domande solo per te cioè nel senso vai adesso le devo recuperare nel frattempo no basta tu hai vuoi già dire delle date tue di stand up che farai non lo so perché adesso c'è col fatto che ci stanno questi coprifuochi cose io sto un po temporeggiando perché devo capire un attimo come come si mette la situazione cioè c'è un po di cose in sospeso e vediamo se se farle insomma va bene quindi seguite rapone su tutti i social su grandi raponi su instagram su youtube su facebook su tiktok twitter su tiktok è vero perché tu metti video pure su tiktok sì però non mi sono stufato non ti danno soddisfazione no alcuni sono andati pure bene però poi non capisco è una cosa che non capisco cioè a parte c'è un po tiktok come social non ti sconfinfera no poi ma c'è stata quella cosa in america che l'hanno bloccato sì non so se poi alla fine l'hanno fatto stanno solo facendo poce grossa però appunto l'hanno bloccato allora andiamo con le domande la prima che ci fanno è avete studiato dopo le superiori certo che cosa hai studiato studiato torniamo a parlare di questo giapponese e sei laureato sono laureato in lingua e letteratura giapponese magistrale vedi magistrale magistrale non lo sapevo mica guarda vedi ho imparato una cosa nuova cioè hai fatto l'università per cinque anni sì sei anni 3 più 2 3 più 3 diciamo perché un anno sono stato in giappone 4 più 2 cioè mi sono iscritto e poi sono andato in giappone quindi un anno l'ho perso così vedi io pure ho fatto l'università per sei anni però in sei anni ho conseguito una triennale in scienze politiche magistrale bravo 110 all'ora ah madonna stefano che una michela girodata io ho 96 che salutiamo che salutiamo michela giro allora vedi ci hanno chiesto un po di top di top cose rapone sei un grande fan di mai dire top 3 personaggi preferiti con la motivazione queste forse te le avrei dovute fare prima così ci pensavi un attimo di mai dire sì è difficile di mai dire io pensare che comunque sono tante edizioni che si pensaci io ho visto talmente poco mai dire che conosco pochi personaggi vabbè ti posso dire il luttazzi di allora che comunque era era figo fortissimo tra l'altro il vero nome di lutta vabbè questa è la solita regga di daniele fabbri esatto il vero nome di daniele fabbri è daniele tinti no non è vero chi ci sta odio sai che è difficile pupazzo gnappo il pupazzo gnappo per esempio non me lo ricordo era bellissimo perché era mai dire mike si faceva ora di pranzo io tornavo a casa mi vedevo a magliere mike era un quiz buffo e ci stava colonio de luigi si era il presentatore che era fabio de luigi e faceva un personaggio così poi dopo è stato sostituito da mimmo orientabile sì che invece era crozza però era meno divertente e mi ricordo che c'era c'era pupazzo gnappo che era ugo di ghero che andava lì con vestito da questa formica gigante rossa e raccontava delle fa delle favolette era molto divertente a me c'è un sacco e quando c'era stato questo cambio di presentatore alla fine l'ultima puntata c'era elio sredese come band che cantava una canzone che era nel era una canzone che stava in crack 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 che l'album di elio e in quell'album era si chiamava bis che era un po che faceva il verso penso a ligabue e in questa qui l'hanno riadattata e chiamato chiamandola quiz e quindi diceva c'è questo c'è quest'altro cioè facevano un elenco di cose e a un certo punto diceva con le fiabe di gnappo il pupazzo con mimo orientabile che fa schifo al cazzo perché era meno bello di però lo diceva nella sigla e mentre mentre cantava questa cosa c'era il pupazzo di napole che ballava poi c'è stato tipo si gira come se dice ma chi sta a dire mi è rimasta in pressa questa bellissimo questa cosa e poi vabbè ti dico terzo come terzo ti posso dire bovaldo giovanni e giacomo quando facevano gli svizzeri il signor rezzonico fausto gervasoni e uber uber che era tipo la pratica di ultimo minuto era praticamente bellissimo diciamo è stata un'ottima risposta e anche gennaro e luiz gennaro e luiz che salutiamo senti ci chiedono siete coinquilini no se no lo vorreste essere nella madrugherata ipotesi di un altro lockdown forse no ma cioè non guardi tutte le persone con cui dovrei essere coinquilino in lockdown non mi dispiacerebbe essere coinquilino però se dovessimo farlo no però siamo anche vecchi no se dovessimo trovarci a essere coinquilini sarebbe divertente però per fortuna siamo milionari e quindi non sarà più necessario allora poi qualcuno ci chiede cosa si prova ad essere fatta mi sta un attimo telefono deve rispondere però un attimo vai vediamo se è divertente pronto devo tornare e perfetto siamo tornati la telefonata è stato un flop per la puntata era un pacco che deve essere consegnato esatto però un armadio però così così deve essere allora un problema col menisco il signore del ups ho sentito ho sentito che fa messe bloccato il menisco e quindi me lo devi caricare a te allora sai di essere la voce più sexy della stand up italiana questa è una domanda per me sì lo so lo sai adesso sì lo sanno tutti cosa ne pensate madonna allora cosa ne pensate del co conduttore di tintoria ne penso ne penso una gran cosa allora no poi perché allora il problema è che questi sono screenshot delle delle domande quindi sono non sono complete quindi per esempio tale tommaso che ci dice cosa pensate le battute sessiste a me piacciono molto ma ho amici che mi sgridano e poi non c'è il resto della cosa beh però così fa ridere cosa pensate le battute sessiste a me fanno ridere molto se sono battute belle e divertenti che fanno riflettere sul paradosso del sessismo ma dipende come le fai esatto esatto non si può generalizzare se stai insultando le donne se ridi della condizione della donna è brutto se si sa che è uno scherzo se è una cosa protetta va bene esatto se riesce con quella battuta proprio evidenziare i paradossi e gli errori del sessismo allora allora va bene ancora ci chiedono sempre uomini sei consapevole di essere un sex symbol e poi ma quanto è bravo rapone vabbè però che palle hype per la prossima stagione dell'aricandre show pochissimo quasi nessuno ma è pure carino è più facile far ridere con quello che si dice o per come lo si dice che vuol dire tutte e due e dipende dipende sì no veramente è vero che è importante anche come si dicono le cose perché se puoi avere anche dei bei testi però se dici male non fanno ridere magari e forse più importante come fai le cose non lo so cioè dipende quello che vuoi fare perché in realtà quello che dice se il contenuto è forte poi stai stai a posto ma vediamo un po se ok e però cioè in teoria il tuo contenuto è divertente però c'è chiaramente se non sai stare sul palco non puoi fare niente allora poi uno ci chiede non ti è piaciuta molto sbrigativa perché sennò bisognerebbe intavolare una conversazione comunque è vero che sono sbrigativo quando tiro fuori il telefono poi mentre sto cercando le altre domande forse non dovrei rispondere io ma solo tu uno chiede quanto bullismo hai subito da ragazzino con il tuo cognome ma cioè non mi sembra sto cognome così vittima di bullismo più di altri cognomi poco un po' sì però ma era bullismo per il tuo cognome o bullismo in generale e il cognome c'è finito in mezzo ma era cioè non è che era il cognome in sé penso penso sia tutto il contesto e poi perché io quando ero piccolo ero dalle suore alle medie per dire e quindi lì cioè era una scuola in cui aveva gli elementari le medie liceuti insieme ok e sono arrivato lì dall'elementare della scuola pubblica ok e quindi là c'erano già quelli che si conoscevano e quindi ero uno un po' nuovo e quindi ci stavano un po' di scherni diciamo così però poi io ho menato a tutti bravo avrei voluto però se fossi stato fortissimo avrei fatto come appunto insegna dragon ball cioè che la violenza risolve tutto il segreto della felicità dell'universo è che tu devi essere il più forte di tutto tutto andrà bene se sei la creatura più forte dell'universo accetteresti mai di passare da fare stand up a fare un film di castellitto guarda io grazie al cazzo non è che sono due cose che si escludono poi certamente anzi andiamoci tutti a vedere i predatori che esce oggi che esce proprio oggi esatto quindi ieri per chi ci sta vedendo esatto e tra l'altro nel film potreste trovare una persona prossimamente ospite di tintoria non diciamo altro così tutti pensano che montanini e invece no poi una persona scrive stefano rapone entai e poi fa cancella non inviare giuro che ero goliardico e te l'ho detto devo parlare di entai no vogliamo parlare di entai hai una posizione sugli entai ma per molto tempo li ho bazzicati perché appunto si parla di dragon di anime comunque c'era la versione dragon ball x quando ai primi anni di internet quanto si parlava nel sottobosco giovanile di dragon ball x con le gif di di goku e kiki che scopava non ti dico solo questo girava e beh lo fanno lo fanno hanno avuto ben due figli le due volte l'hanno fatto esatto goku mi sa di persona poco sessuale ma infatti questa è una cosa molto bella che viene rivelata in super che tipo goku non ha mai baciato sua moglie madonna bruttissimo kiki veramente che donna che donna forte che sarebbe da parlare delle donne di dragon ball parliamo le donne di dragon ball perché effettivamente a parte bulma personaggio completo è fondamentale intelligente che si accolla pure vegeta e anzi umanizza vegeta e insomma madre scienziata bello che dottor prima madre però no scienziata eroina coraggiosa esploratrice esatto quindi personaggio totale kiki è una che cici 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 personaggio invece forse un po meno un po messo meno tridimensionale se possiamo sì però è anche vero che ha cresciuto due figli da sola con questo marito che andava goku pessimo marito e pessimo padre e andava addirittura nell'aldilà cioè poteva tornare nell'aldiqua e rimane invece ma poi sceglie di allenare ub invece di stare con la sua famiglia e parte per allenare ub alla fine di dragon ball perché ci vedete il potenziale allora molla i figli con cui non è mai stato molla la moglie figli comunque grandi ormai dai uno si è sposato no gohan sì però gothen gothen no quando parte con ub no sì 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 17 18 anni ah è vero sì 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 comunque adulti dai sì 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 è vero è vero stavo facendo confusione però mentre con gohan un po c'è stato con gothen praticamente mai no non c'è stato quasi mai infatti lo anche quando si si rincontrano almeno nel manga neanche si 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 salutano quasi capito quindi è no goku veramente pessimo padre e e cici è la povera moglie di questo marito che manco la riconosce quando si sposano nel primo torneo tenkaichi quando lei dice sì 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 giusto perché ha fatto una promessa se la sposa però è è bello anche per questo cioè perché comunque la cosa figa è questa che goku cioè diventa più saian di vegeta che invece diventa più umano cioè questa cosa è perché conquista io non sono più una razza guerriera che non va dal alla famiglia invece vegeta a un certo punto combatte per la famiglia invece goku combatte per gli affari suoi goku combatte per essere il più forte sì per essere per superare i suoi limiti e tutto però è la moglie appunto cici non cioè si non c'è avuto forse un'evoluzione però è anche vero appunto che ha fatto tirato su due figli che comunque delle non povera è ricca di famiglia è vero lei è ricca di famiglia però allora perché piange sempre miseria è perché poi a un certo punto i soldi finiscono cioè lei è campato di rendita con i soldi del del padre poi però ovviamente il figlio si sposa la figlia e quindi di un miliardario per cui in qualche modo ci rientrano però lei comunque è appunto ha cresciuto due figli che comunque sono dei figli educatissimi sì beh esatto quindi non è facile insomma anche questa cosa quindi poi altri personaggi femminili c18 personaggio incredibile che ricordiamo cyborg nasce cyborg no nasce umana poi cyborg e poi di nuovo mezza umana nel senso viene rimosso l'esplosivo che c'ha all'interno si si sposa con con creme che lei voleva una famiglia alla fine cioè si vede questa cosa e quindi anche lei forse un po non ha un'evoluzione finale però alla fine c'è un personaggio forte è una donna forte che mentre prima era un assassina a un certo punto riesce anche ad accettare il suo lato più tenero diciamo così quindi è una sua evoluzione è interessante che krillin si innamori perdutamente lei quando lei è ancora cattivissima certo perché lui purello era uno di noi krillin krillin è bello quello di noi di dragon ball quale saremmo noi noi saremmo krillin che comunque il terrestre è più forte di tutti infatti a me io quando ho visto questa cosa per me è diventato il mio personaggio preferito perché cioè il terrestre più forte dell'innastrutto è uno basso pelato pelato per scelta per scelta esatto e mi faceva impazzire sposata con una con una cyborg una cyborg bellissima che non invecchia mai con cui ha una bellissima figlia esatto per cui un grande e videl sì che prima forse ho chiamato vidal che invece lo shampoo è un centrocampista dell'inter videl figlia di mister satan e fidanzata e poi le moglie di gohan è un personaggio invece un po più approfondito che arriva tardi arriva nella saga di majin bu no sì nella saga di sail non si vede no arriva nella saga di majin bu ed è la ragazza che va a scuola con con gohan è abbastanza sto pensando in questo momento a videl videl è abbastanza caratterizzata mi sa che poi in super sparisce super diventa mamma diventa mamma e quindi finalmente compie il suo dovere di don diventa mamma di un saiyan che tra l'altro serve per fare per evocare il super saiyan gingotto sì è un momento molto comodente quello per me è stato molto quando scopre dice a tutti che è incinta è come se un tuo familiare non scopre questa cosa quindi per me è stato molto molto bello vedere che anche gohan stava per giusto che poi sappiamo che diventa pan quella cosa perché anche pan personaggio che si vede già in dragon ball canon sempre appunto quando quando a quattro anni ed è fortissimo comunque le donne diciamo per quanto messe un po da parte in realtà hanno tutte una loro dignità ecco questo sto pensando ad altri personaggi femminili però c'è come si chiama mei che sì anche lei pure l'hanno l'hanno ripescata in super si è bella caratterizzata e poi c'era l'hanci invece l'hanno lasciato un po un po indietro però anche lei comunque c'ha avuto sempre i suoi momenti e poi sono finite le donne forse la mamma di bulma è rimasta no un po ci sono un po di donne in super nel torneo del potere ah è vero sì quelle io ecco argomente ah giusto c'è tutta la saga delle Saiyan sì, ah è vero sì, io pensavo anche quella infatti i più forti dell'universo non mi ricordo sono tutte donne e c'è pure una super Saiyan della leggenda più di così diciamo si sono un po' hanno un po' rivisto hanno un po' puntato anche sul mercato femminile diciamo 30 anni dopo hanno detto proviamo a esplorare questa pezza di mercato e vediamo come va poi insistono col tuo nome ritorniamo alle domande che alla fine abbiamo fatto un'ora su Dragon Ball però posso dire non l'avrei voluto in nessun altro modo ma Stefano Rapone è un nome d'arte? Ti chiami veramente Stefano? magari mi dicevi di no poteva essere che piega questa è una bellissima domanda che piega prenderà la sua carriera quando la felpa amaranto che indossa sempre sarà da buttare questa è una bellissima domanda perché io ora indosso questa rosa perché questa per me è la terza stagione della mia carriera e come la terza stagione di Lupin indosso la felpa rosa lui ha la giacca rosa io quella rosa abbiamo tempo per questa spiegazione certo, intanto vado a prendere una cosa che vuoi apprendere? vai 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 tu parla mi ascolti però? sì ok no vai aspetto che torni dai aspettiamo che se no stati là che c'è Spreafico che parla al telefono cos'è? ho visto che poi c'è una domanda per cui voglio dire una cosa ok no allora la cosa è questa infatti volevo anche farci fare una foto con con le varie felpe perché io appunto qua partono da diverse cose che si incrociano anche questa è una cosa che non ho mai detto forse vai che sono una diciamo come in Dragon Ball appunto c'è Dragon Ball c'è i colori per dire io indosso sempre come una divisa come se io andassi in battaglia come fa Goku insomma quando sale sul ring e i colori sono quelli appunto Bordeaux e giallo quella ufficiale diciamo la prima perché quando io leggevo le interviste da Chiara Torriamo diciamo perché hai scelto i colori blu e arancione per la divisa di Goku dice perché io sono andato a un tempio buddista vedevo tutti con questi colori e mi piaceva l'accostamento e io all'epoca ero piccolo e quindi per me il buddismo era quello del Dalai Lama ma perché cioè comunque è diverso pensavo questa cosa e poi i colori del Dalai Lama sono appunto Bordeaux e giallo quindi in onore di quella cosa ho fatto ho scelto questi colori quindi tu hai sentito Akira Torriamo che ha detto una cosa e tu hai fatto un collegamento mentale tuo e hai scelto dei colori che non erano quelli di Akira Torriamo quindi comunque ti sei ribellato ad Akira Torriamo pensando di fare il bene del buddismo sì no ho fatto una cosa cioè l'ho resa mia però un processo che era cominciato ho fatto lo stesso ragionamento però con un errore che avevo fatto io e quella infatti è la prima maglia poi io come dicevo sono un fan dei picchiaduro sì quindi tipo in Street Fighter tu prendi due personaggi uguali sono uguali ma cambia il colore sì quindi la mia quando cioè ho altre felpe con colori diversi perché è come se fosse io ho selezionato con il tasto B dal player 2 capito quindi quella gialla con la maglia rossa è la seconda e poi però questa qua è una cosa che ho sviluppato già al un po' più avanti questi colori no? inizialmente c'era quella un tipo grigio verde e la maglia arancione dei Gunis che è quella con cui mi sono esibito la prima volta in Giappone e ce n'avevo un'altra invece che era tipo blu e una maglietta Bordeaux del Mago Pancione anche quella avevo comprato in Giappone e quindi quella è stata la mia prima le prime che mettevo quindi per me è come se fosse l'upenne con la giacca verde diciamo la seconda è stata quella appunto con la maglia Bordeaux e gialla è quella la felpa gialla prima e seconda poi ce n'è anche una terza che ho messo poche volte è quella nera e quella è come se fosse la versione malvagia dark esatto magin esatto e adesso la terza stagione è questa qui rosa come Lupin perché anche tu come Dragon Ball Super strizzi l'occhio al pubblico femminile no pensa che il rosa non è un colore femminile no solo per per Lupin e doveva essere la maglietta gialla ora c'è la rosa perché quella gialla è a lavare perché l'ho messa lunedì scorso per quindi ora c'ho questa qui e quindi questa qui sarà la prima della prima maglia della terza stagione questa qui stupendo per tornare al discorso Rapone è consapevole di essere un sex symbol non ha paura di mettere rosa su rosa che veramente neanche i bori ai tempi delle maglie di playboy usavano tanto rosa è come però Majin Bu che è che Majin Bu è rosa e mega etero esatto e allora poi questa domanda è di Pietro Nikolausic che scrive allo sguardo dell'uomo eclettico ha degli altri talenti oltre a quello comico hai degli altri talenti un po' disegnavo ho fatto un po' di fumetti ma già lo sappiamo che potete acquistare sul sito sì sul sito anche se ormai ma ce l'ha ancora qualcuno mi sa comunque Pietro Nikolausic lui ha dei talenti lui è un illustratore che abbiamo conosciuto alla festa di Matteo ah sì ma ce l'ho pure io di Beria che mi ha mandato alcune stampe molto belle e se state vedendo il video ve le sto facendo vedere per dire queste qua e ce ne sono un sacco di altre molto belle quindi se vi piacciono queste illustrazioni che adesso chiaramente se state sentendo l'audio pensate ma che cazzo sta facendo però guarda questa è figa io le trovo un po' anche berserkiane per tornare ai manga molto bella guardate seguite Pietro Nikolausic che ha questo cognome quindi è molto difficile da trovare su Instagram ma confido che cercandolo bene lo troverete perché mi ha mandato queste stampe sono molto belle quindi ho deciso di proporle a Tintoria e siamo tutti una grande famiglia perché quel Natale lui venne con delle stampe alla festa di compleanno di Matteo Tiberia già ospite di Tintoria e regalò ad alcune persone che erano rimaste alla festa queste stampe oppure c'è una di là adesso mi ha mandato queste che devo dire mi piacciono moltissimo allora continuiamo con le domande tanto questa puntata può durare quanto devi fare qualcosa tu? io dico alle 7 c'è la Roma ah sì certo certo allora intanto io ti dico oh vedi qua capitolo di Final Fantasy preferito e personaggio preferito vabbè il capitolo preferito è il 7 il 7 perché è il primo che ho giocato io ho comprato la Playstation per Final Fantasy 7 ok perché il mio amico Liang mi ha detto questo gioco è molto bello compralo e io subito Playstation e pensa ai soldi che avevi vedi le famiglie di destra beh basta adesso perché comunque erano gli anni in cui comunque il Super Nintendo stava un po' in declino e la Playstation costava 250.000 lire non mi ricordo quanto costava noi la pagammo io mi ricordo ancora quando abbiamo comprato la Playstation 1 era sotto Natale cioè è stato il regalo dei miei genitori a me e mio fratello per Natale e costava 250.000 lire io l'abbiamo comprata un po' di tempo dopo quando già c'era il DualShock ah ok e quindi c'avevamo già gli analog però c'avevamo già giocato ovviamente da un sacco di amici e mi ricordo mai più a Natale io riceverò un regalo che mi entusiasmerà come la Playstation eravamo a casa di mia zia quel Natale e sotto l'albero c'era proprio la scatola e noi lo sapevamo che era la Playstation e proprio non riuscivamo a frenare l'entusiasmo e l'abbiamo aperta era la Playstation 1 che avevamo oppure comprato insieme ai miei genitori perché vogliamo dire proprio dovete comprare quell'oggetto lì e il videogioco ci regalarono visto che gli anni era quello ed era uno dei nostri film preferiti mio e di mio fratello era il videogioco del quinto elemento che era un giocaccio io me lo ricordo perché c'era io c'era la demo e c'era Bruce Willis c'era Bruce Willis che diceva tipo I feel good tipo a un certo punto I feel good non mi ricordo e c'era uno alle media in classe che invece era diventata la sua catchphrase il suo tormentone che diceva però diceva I freddo non era vero e quindi me lo ricordo però non era non era un gran gioco era uno di quei giochi e sai cosa mi dispiace che adesso con le nuove console la playstation 1 è l'ultima console in cui facevano un sacco di giochi brutti cioè per playstation 1 che sono usciti migliaia di videogiochi una quantità di giochi di merda che tu ti potevi imbattere in dei videogiochi veramente orrendi brutti disegnati male che poi ti ci divertivi sempre però proprio cazzate mentre invece nell'epoca della playstation 4 nessuna casa di produzione di videogiochi produce una cazzata cioè sono tutti giochi mirati e secondo me sono anche meno diversi cioè adesso ci sono tipo dieci macro categorie di videogiochi forse anche di meno e tutti i videogiochi rientrano in quelle categorie là mentre invece per la playstation 1 c'erano proprio appunto il gioco del quinto elemento non uscirebbe mai per playstation 4 e invece ne uscivano a bizzeffe e però poteva pure essere a sorpresa che il gioco del quinto elemento fosse una bomba capito cioè poteva essere che a caso quando facevano il videogioco di A Bug's Life Mega Minimondo lo facessero in un modo che tu ti ci tagliavi tantissimo si è vero c'erano molti questi giochi sui film io c'erano quello dei Toy Story mi ricordo che era carino alla fine non era male però si erano un po' di Dragon Ball per esempio erano molti brutti i primi erano proprio fatti male anche quello di Alma ce l'avevano comunque no dicevo Final Fantasy VII erano partite giusto scusami personaggio preferito Vincent ok che tu non l'hai ancora preso ancora no che stai giocando adesso sto giocando adesso è un personaggio opzionale in realtà puoi anche non prenderlo e giocare però è figo io sono arrivato ho appena sconfitto il padre di Yuffi nella palestra ah ok si sono là quindi lei l'hai presa lui lo prendi quando vai sta tipo in una tomba ok in un sotterraneo di se non sbaglio Nibelheim che è il posto dove stava abitava Cloud se non ricordo male era lì e c'è lui che esce da sta tomba e tu gli dici poi direi tipo se vuoi venire con me sì o no se dici no se rimettela a dormire fine non lo prendi mai più però è figo perché una volta erano così i videogiochi erano fatalisti se dicevi no era finita e infatti non sta mai nei filmati nel lui negli Yuffi perché anche Yuffi è un'altra personale a Yuffi puoi dire di no? puoi dire di no ah vedi no lo sapevo e Yuffi l'ho presa spontaneamente cioè senza neanche vedere nella guida che avrei dovuto prendere Yuffi l'ho presa eh sì perché ti capita che la combatti eh sì ti capita nel bosco sì perché se non ti capita non la prendi mai e scusa è tutta la saga che ho appena fatto eh non la fai ah sì mazza ah quindi è una saga opzionale sì ah ma c'è pure voluto del tempo per questa saga opzionale ma sono persone che vanno presi c'è tutta una serie di cose in più eh certo vedi non lo sapevo questo poi Vincent che è nato il 13 ottobre ah sì mi ricordo che c'erano i libretti quindi da poco al suo compleanno eh una volta infatti ci ho pensato detto ah vedi oggi è il compleanno di Vincent bella questa cosa senza Facebook quando sono nato io? non mi ricordo eh però però Vincent te lo ricordi a luglio sei nato sì a luglio ok l'11 puoi provare a ricordartelo se vuoi ah questo è per me il vinile di Harvest è solo per darsi un tono o dietro nascondi la droga? ecco la Harvest di Neil Young no per darmi un tono più che altro è pieno di robaccia là dietro e quindi ci metto dei vinili e i primi in classifica sono sempre una raccolta dei Beatles dal 62 al 66 Harvest di Neil Young un disco di Bob Dylan quelli non so neanche chi siano e Miles Davis che ne pensate di James Acaster o Acaster? ma l'ho visto a me facciano ridere non li ho visti tutti e quattro però quelli su Netflix mi facciano ridere sì non era male non me lo ricordo benissimo però cioè te lo vedi a me erano piaciuti i primi due l'ho trovato molto tecnico anche se faceva finta di non essere molto tecnico però in realtà faceva tutte cose fighe cioè quello che inizia lo spettacolo che sta in ginocchio cioè tutta quella roba là che io non faccio mai e invece mi piacerebbe esplorare a parte il fatto che non posso mettermi in ginocchio e ho un problema al ginocchio destro però era interessante questa è un'altra storia come faccio a far chiamare un personaggio che muore in Don Matteo col mio nome perché ricordiamo che in una puntata di Don Matteo a un certo punto viene fuori che è stato ucciso Stefano Rapone e come fai? devi essere amico di una sceneggiatrice di Don Matteo che quando è accorto di nomi si appella al tuo nome e pochi sanno che la fidanzata di quello Stefano Rapone del Don Matteo si chiamava Gabriella Antinori ah sì? stupendo se non ricordo male bellissimo Stefano perché non fai il doppiatore? perché non ho studiato edizione quindi parlo male ma non parli particolarmente male a me sembra che tu parli quasi quasi bene poi è chiaro che sì però appunto il doppiatore deve fare è proprio è un lavoro serio non è che uno si improvvisa e poi non lo so il mondo del doppiaggio cioè mi ha sempre affascinato è una mafia per la questione sì dei cartoni però è una cosa pure che forse adesso è un po' in declino non lo so stanno meno soldi forse stanno meno lavoro beh un po' un po' inevitabilmente cioè Netflix banalmente non c'è niente di doppiato tutto di subbato ecco forse il subbatore è un lavoro molto sottovalutato perché a volte i sub di Netflix sono delle delle cialtronate che dici ma non è quello che ha detto quello di Giorgio mi sembra fatto bene ok e no mi piacerebbe farlo in realtà cioè almeno fare qualcosa cioè se tipo si facesse un film animato italiano per dire sarebbe figo farlo però preferisco stare davanti lo schermo io no ok va bene mi sembra una buona ma magari nel futuro come fanno gli attori tipo Rick Morenis no che è andato in pensione quello di Tesori mi sono gli stetti ragazzi ok e ha fatto il doppiatore a un certo punto lui ha smesso di fare l'attore mi sa ha fatto qualcosa come doppiatore ora tornerà mi sa a fare un film ah si anche quello è l'attore di Luke Skywalker Mark Emil anche lui ha fatto per anni se non sbaglio il doppiatore di Joker nel cartone di Batman ah che figata non lo sapevo che era Mark Emil stupendo qui un'altra domanda si torna sempre su Dragon Ball se tu fossi un personaggio di Dragon Ball quale saresti? quale vorrei essere o quale sarei? quale saresti chiedono chi è Rapone in Dragon Ball? allora potrei essere o un Krillin appunto o sono Yamcha Yamcha perché comunque è un Tenshishan un Tenshinan Tenshinan no perché non sono calvo vabbè non hai neanche tre occhi però no perché comunque lui è Ligio e al dovere però c'ha i limiti umani e io magari mi divento pigro quindi io divento Krillin che smetto e penso alla vita privata o divento Yamcha e vado a fare il donnaiolo però adesso non posso quindi 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 Krillin uno dei due quando sono single Yamcha quando sono fidanzato Krillin diciamo come spieghereste i vostri diversi modi di fare comicità che tipo di comicità fate vai spero capiate abbiamo abbiamo capito boh non lo so spiegare io non c'è non perché sia una cosa che non si può spiegare non lo so perché direi one liner però in realtà mi piace pure fare cose che è sulla no si è spenta l'algo pro è finita va bene è il segnale che stiamo andando lunghi stiamo arrivando alla fine non lo so quando quando ci siamo conosciuti che era un'altra domanda alla prima serata di stand up comedy della mia vita all'oppio caffè si diceva oh hai visto che bravo quello fa anti comedy però mi sembra che poi tu sia molto andato oltre l'anti comedy perché poi in realtà alla fine stai tu sul palco e non è che fai necessariamente anti comedy no infatti a me piace quando quei meccanismi che sono anti comici cioè anche quando ripeto le cose all'infinito oppure certe volte proprio ripeto apposta delle cose anche se dovrei stringere quindi quando faccio le cose così che non che vanno al di là del come dire di quello che dovrebbe essere fatto mi piace di più però mi piace pure fare delle cose delle battute fatte come Cristo comando diciamo perché secondo me per te anche one liner è riduttivo sì perché non è solo quello no no infatti è vero che sei difficile da sei difficile da catturare come genere comunque forse forse possiamo possiamo dire che basta devi rispondere tu eh io non lo so io faccio storytelling 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 ti leggo qualche domanda ah è vero tuttora c'è le domande mi sono arrivate però vediamo se le trovo vai se le trovi dà paura che erano tutte molto buffe sì quindi scegliene tre eh a uno ci chiede del tour del video del tour no guarda tasto dolente lo faremo lo faremo uscire presto sarà un christmas special tintoria christmas special e dice nuovi comici internazionali e non che ne pensate di daniel sloss beh daniel sloss è bravo bravo scopato nel 2008 che ci chiedono vabbè sono tutte molto buffe perché tenete nascosta la puntata di astralista in cui rapone diventa super saian 4 perché è un tasto noi siamo i due campioni no io sono il campione io sono il campione io sono il campione di astralista e stefano è in una puntata apocrifa però come noi crediamo in gesù cristo esatto e non in quelli non in quelli dei vangeli apocrifi così il campione di astralista sono per sempre io no però io dico dico solamente questa cosa ho fatto una puntata in cui eravamo io in una io e ravenna e in un'altra io e lundini però non la vedrete mai in cui sconfiggevamo cupani no carmine il grosso alla seconda e fabbri prima fabbri e giulia nervi ok e la seconda era carmine e chiara galeazzi ok se non sbaglio io non mi io nella prima ho sconfitto cupani non mi ricordo con chi e nella seconda guia e mileto penso e nella prima chi c'era con cupani non mi ricordo eh non mi ricordo più e beh però c'è io comunque ho giocato malissimo e non so come siamo riusciti a vincere è stata una cosa stranissima in entrambi i casi io un po' io in quella contro guia ho vinto pure se all'ultima domanda che era quella di una cosa che quelli devono andarsi a prendere in casa noi eravamo tipo in vantaggio di otto punti e io ho detto una cosa che nessuno aveva quindi ho fatto zero con l'ultima risposta però eravamo talmente tanto in vantaggio che comunque abbiamo vinto e ora sono campioni per sempre aspetta io alla seconda pure io ero in vantaggio rispetto a Carmine e Chiara che eravamo gli ellundini no ovvio non mi ricordo chi eravamo la seconda vabbè comunque eravamo in super vantaggio e e quindi alla fine era già decisa la partita proprio all'inizio invece nella prima è stata molto tesa che era quella contro Fabri stai chiamando mio padre adesso vabbè forse nella seconda c'era vai a prendere una cosa più lunga di un metro e io ho detto vai a prendere un metro che era quello da misura e tipo lancetto sei pazzo ti sei proprio fatto un autocollo perché il metro è teoricamente un metro e invece effettivamente il metro è anche un po' più lungo infatti è arrivato uno che c'era un metro e dieci quindi alla fine l'ho scampato in questa maniera non la vedremo mai probabilmente ci siamo anche proposti di doppiarla noi di commentarla perché c'era il problema dell'audio sì perché era l'audio che non funzionava però ho detto no guarda io ti ripeto che il mio sogno sia che propongano a Lancia di fare Asta la lista in televisione e alla prima puntata e ci sono io come campione in carica e poi arriverà sicuramente qualche fenomeno che mi detronizza però così sarò ufficialmente campione per sempre il primo campione di Asta la lista va bene siamo arrivati alla fine mi devi firmare finalmente anche il tuo nome appare sulla in diretta sì sulla Hall of Fame di Tintoria ti ho lasciato pure l'angolo in alto a destra come mi avevi chiesto che le ragazze della puntata scorsa hanno gli ho detto lasciatelo vuoto loro hanno detto allora noi ci scriviamo apposta poi invece sono state infatti l'ho sentito e ecco fatto sono state gentili e l'hanno non l'hanno firmata comunque nel frattempo io dico seguite Stefano Rapone su tutti i social lo trovate come Grandi Raponi principalmente oppure come Stefano Rapone su YouTube seguite Tintoria ho creato un canale di Tintoria dove verranno caricate solo gli highlights di Tintoria i video corti quindi se siete arrivati fino a un'ora e venti di puntata e pensate sta puntata è lunga carico delle pillole degli highlights di Tintoria su sto canale YouTube che si chiama Tintoria Highlights su cui vi invito di mettere il subscribe il follow perché tanto che vi costa e a sto punto di premere pure sulla campanellina di solito non faccio queste promozioni ma insomma siamo proprio alla fine della puntata seguite anche Filippo Spreafico che ringrazio Filippo Spreafico che non sa dove si trova a Roma e la camera dove sarebbe dovuto stare non è più disponibile quindi è arrivato a Roma e il giorno stesso gli hanno detto non puoi dormire qui quindi è un po' randaggio in giro per Roma se avete questa puntata esce domani se avete una camera a disposizione per Filippo Spreafico non sporca è educato e è gentile se volete oggi ha lavato i piatti se volete venirci a vedere dal vivo ci potete trovare il 2 novembre a Snodo in via del Mandrione è necessario prenotarsi a prenotazionecomedy at gmail punto com perché chiaramente rispettiamo il numero massimo che si può avere in sala stando tutti seduti e rispettando la distanza di sicurezza e se non è il 2 novembre è due settimane dopo e così avanti fino alla fine dei tempi grazie mille a tutti stai io forse chiudo vuoi dire qualcos'altro ok vai 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 valla a chiedere valla a chiedere Stefano ha una domanda giustamente non ha parlato nel mio microfono perché io sanifico tutte le volte i filtri antipopi io ho questa domanda che voglio fare e qui voglio avere un feedback si stavo facendo un freezer però mi è venuto storto vabbè allora tra un po' è il mio compleanno si il 30 ottobre il 31 ho questo dubbio io voglio comprarmi dei pupazzi di Dragon Ball però costano tanto quindi sono fatto una wish list si stavo pensando pubblicarla pubblicamente come fanno alcuni influencer di questa mia wish list regalatemi dei pupazzi di Dragon Ball per favore non è etico non è etico viviamo in un paese capitalista quindi non c'è niente di etico lo scelgono le persone se una persona sceglie di regalarti il pupazzi di Dragon Ball vuol dire che la soddisfazione di contribuire a farti un regalo a loro gli torna quindi lo scelgono le persone stesse nel momento in cui lo fanno però c'è se io faccio uno spettacolo dico venite a vermi mi date i soldi io però vi do una cosa in cambio così mi sembra quasi che beh infatti bisogna vedere poi quanta gente te li compra a livello dell'acquisto proprio il gesto beh ma tu lo puoi dire questo puoi dire non so se questa è una cosa etica però se a qualcuno andasse di regalarmi questo pupazzetto di olong io sarei perché io pure con gli amici che faccio quando privato guarda c'è questa cosa no è brutto cioè o la vu perché io se fossi Chiara Ferragni no no se avessi un profilo privato suoi amici lo farei magari con gli amici è ok però se lo faccio anche nel privato c'è gente che non conosco su facebook e quindi poi sei un fan ti dà 5 euro per comprarti il pupazzo dei sci-buy men eh ammetti che cioè arriva qualcuno mi compra mi li compra tutti uno e spende un sacco di cioè come fai vabbè però è in grande eh però magari non va bene ma non va bene perché se lui sceglie di farlo va bene è chiaro che è difficile chiederla una cosa del genere però non è che non va bene al massimo le persone dicono guarda con tutto il bene che ti voglio non ti compro i pupazzi dragon ball e tu poi ci resti male perché ti conosco ma io non penso non la faccio però volevo sapere volevo avere dei feedback guarda ti dico secondo me lo puoi fare sì secondo me lo puoi fare cioè al massimo eh lo dico agli amici perché mi sembra di approfittarmi però era solo per avere dei feedback su questo secondo me puoi farlo e se poni bene la domanda pubblicamente la puoi anche fare pubblicamente non so quanta gente poter regalerebbe i pupazzi dragon ball tanto comunque non avremo feedback su questa conversazione perché un'ora e venticinque di tintoria nessuno se la sente è vero va bene se state ascoltando forse potete anche regalare dei pupazzi dragon ball a rapone va bene comunque grazie mille Stefano ciao grazie mille Filippo grazie ciao a tutte ciao a tutti ci vediamo alla prossima puntata ciao facciamo un po' così perché se non si è sempre guardiamo solo un secondo e poi la chiudo così grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille